E mentre aspettiamo che arrivino i video di Angelo e dei suoi fratelli bianconeri da Nardò andiamo a vederci quelli che sono andati da Taranto, Lizzano, loro vanno come te, ogni periodo della Juve, loro sono presenti, la zebra parlante col suo club era allo stadio, eccoli qua, dallo stadio, dalla curva nord che ci fanno i loro video, grandissimi, eccoli qua, Lizzano bianconero. Grande tributo di affetto e di amore, siamo qui. Nardo Juventus, Scagno, Luigi, Apate, la zebra parlante, insieme alle Zebre del Sud, insieme all'Izzano bianconera, Salice bianconera, la Puglia bianconera, 1200 km di amore, di andate e di ritorno per vedere questa grande Juve che ha travolto 3 a 1 l'Atalanta, una grande prestazione, mi è piaciuto tantissimo Alessandro, ho avuto modo di apprezzare Pjanic, anche Manzuki ci ha fatto il suo dovere, ma siamo tutti protagonisti e vorrei che una parola per ciascuno potessero dare senso a questo amore, iniziando dal superpresidente Antonio Marzo. Grande Juve oggi, grande Pjanic, grande Manzuki, grande Alessandro, inutile, quando fanno questi tre, la Juve è superiore a tutti i quattro. Porto a Juve, vicepresidente di Dizzano bianconero, Cristian Marzo. Grande Mario oggi, grande Mario, fino alla fine. Filippo, Filippo Ferrone, per Salice Salernino, grande Pjanic, grazie, molto emozionale Filippo. Viva la fine. E ancora Paolo, anche Cuccia e Puglia bianconero, da Militato, con di Salvatore, Salvatore. Paolo, grazie mister, grande, 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 come vedete questa è una comitiva innanzitutto di amici, la Puglia bianconera è un feudo bianconero e siamo orgogliosi, 1200 chilometri, non ci spaventano. Noi siamo sempre qui. E complimenti a Top Planet. Salutiamo l'amico, l'abbiamo dimenticato, Peppe Cortella. Peppe Cortella e l'anima bianconera di Copertino. Siete tanti e un abbraccio a te, Marcello Chirico e a tutti i componenti della redazione. Siete voi la nostra voce nelle onde televisive. Da Luigi Abate, la Zebra Parlante è tutto. Alla prossima. Viva la Puglia Bianconera! Noi sentivano più i rumori da stadio, però l'intenzione molto bella è poi anche vedervi allo stadio, belli caldi, ci fa sempre molto piacere. Siete voi la voce, non siamo noi. Noi vi diamo la possibilità di parlare, di farvi vedere, di metterci la faccia, di farvi vedere anche quando andate allo stadio. E lui dice 1200 chilometri tutte le volte, però li fanno sempre volentieri. Questo si chiama essere dei veri tifosi, dei veri gobbi, gobbi veri del Salento. No, bello, ma poi Luigi è un capopopolo lì in Salento, è un capopopolo, spesso viene anche qui a trovarci Luigi Abate, uno anche che ne capisce, di calcio ne capisce molto. Dunque vi saluto tutti da Puglia Bianconera, mandateci anche ancora altri video.